Adesso voltiamo pagina perché per i figli, per i nipoti bisogna pensare alle pensioni, pure per noi, bisogna pensare alle pensioni e nel 2017 cambiano un po' di cose. Mara Pannone ci spiega che cosa. Andare in pensione con l'Ape volontaria è un provvedimento che promuovete o bocciate? Ma se serve a far stare bene chi va in pensione, a creare lavoro ai giovani, benvenga. Da lei che cosa farebbe in quei tre anni? Viaggia, si fidanza? Mi dedico alla famiglia, ai miei nipoti, alle cose che non ho mai fatto. Buone notizie per pensionandi e pensionati. Con la legge di bilancio 2017 sono in arrivo nuove misure per favorire l'accesso al pensionamento con requisiti ridotti rispetto a quelli fissati dalla riforma Fornero del 2011. La novità assoluta è l'Ape, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica. Potremmo andare in pensione a 63 anni e 20 di contributi, anziché 66 anni e 7 mesi. Si incasserà un prestito bancario coperto da polizza assicurativa obbligatoria che dovremmo poi restituire alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate mensili per ben 20 anni. Non trovo giusto che si debba, diciamo, accollarsi una spesa per 20 anni ad un'età di 62. Non è che mi regalano niente, per cui... Stando a casa e non litigare con... Con il datore di lavoro. Con il datore di lavoro o con i colleghi è meglio essere a casa, anche se ci rimette qualche soldo. Ape sociale invece ha costo zero per le categorie in difficoltà, disoccupati, disabili e per chi svolge lavori usuranti. Per questi lavoratori la pensione anticipata non sarà un prestito, non ci saranno somme da restituire, a condizione che l'assegno pensionistico non superi i 1.500 euro mensili. E poi c'è opzione donna. Le lavoratrici del settore pubblico e privato potranno andare in pensione a 57 anni, 58 se autonome, con 35 anni di contributi, se accetteranno una pensione calcolata con il metodo contributivo. Soprattutto per noi donne conciliare il lavoro con la maternità, con la famiglia, con i figli. Ce lo meritiamo di andare in pensione? Ce lo meritiamo assolutamente. Regalo infine per 1.250.000 pensionati, quelli che percepiscono un assegno minimo sotto i 750 euro. Per loro la 14esima sarà più ricca, il 30% in più, circa 100 euro. 100 euro sono pochi però, con i tempi che corrono... Mentre circa 2 milioni di pensionati, quelli con assegni mensili da 750 a 1.000 euro, che la 14esima non la percepivano, quest'anno la riceveranno. Non ci ha presa. Quanto ha trovato più? Io prendo una cosa da attore, 600 euro. Prendo 30 euro. Questi 30 euro in più cosa ci fa? Pensavo le bama, sai che giro così. Auguri. Allora, noi ci preoccupiamo sempre, tutti dovremmo preoccuparci della tenuta del sistema pensioni. In questo caso però, diciamo, l'erogazione sembra aumentare. Gianluca Timpone, ben ritrovato, il nostro commercialista di fiducia. Tra poco poi vi dico chi è il signor Giuseppe Piazza. Benvenuto qui in studio. Buonasera. Allora, Gianluca, sistema? Allora, il sistema attualmente regge perché grazie ai contributi che vengono versati dai cosiddetti lavoratori attivi. È chiaro che per mantenersi in questo modo, soprattutto per migliorare quelli che sono i conti che purtroppo ogni anno arrancano, c'è bisogno che ci siano tantissime ulteriori persone che versano questi contributi. Cioè lavoro. In poche parole, lavoro. Lavoro, lavoro. Allora, vediamo le novità rapidamente per chi sta a casa, i consigli, no? L'ape volontà, abbiamo anche dei cartelli, credo. Eccolo qui. Ape volontaria. Allora, queste sono tutte misure che servono al lavoratore per andare in pensione prima dei 66 anni e 7 mesi. Con l'ape volontaria, chi ha almeno 63 anni, ha la possibilità di fare domanda di pensione a partire dal 1 maggio del 2017. Qual è chiaramente la novità? Per ciò che riguarda l'ape volontaria bisogna avere 63 anni e 20 anni minimo di contributo. Però i soldi che servono per poter raggiungere poi l'attribuzione della pensione definitiva ai 66 anni e 7 mesi, gli vengono concessi in prestito, ossia ottengono questo prestito nel momento in cui raggiungeranno i 66 anni. Nel 7 mesi li dovranno restituire chiaramente in piccole rate. Incomode rate. Esempio, Ape anticipo pensione. Anticipo pensione. Come l'ape social. L'ape social invece non bisogna restituire nulla perché l'età è 63 anni, però in questo caso occorrono 63 anni d'età oppure 30 anni di contributo, qualora chiaramente trattasi di persone che sono attualmente disoccupate e quindi hanno esaurito qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale. Oppure persone che hanno una percentuale di invalidità non inferiore al 74%, oppure persone che hanno all'interno del proprio nucleo familiare una persona con grave disabilità. Anche lavori rischiosi mi pare. Esatto, poi esista anche l'ape social per coloro i quali svolgono i cosiddetti lavori gravosi. In quel caso ci servono 63 anni e 36 anni di contributo. I lavori gravosi quali sono? Sono praticamente chi faceva le mansioni di autista, chi lavorava all'interno di un elenco specifico, infermiere all'interno della sala operatoria. Opzione donna, qui non c'è nessun anticipo? Allora per l'opzione donna l'anticipo è consistente però a fronte di un anticipo consistente, rappresentato dal fatto che riguarda esclusivamente quelle donne che hanno 57 o 58 anni di età e 35 anni di contributo. 57 se si è chiaramente lavoratori dipendenti, 58 se si è lavoratori cosiddetti nel settore privato. Però qual è l'indippo? È che nel momento in cui noi optiamo appunto per l'opzione donna, il calcolo della pensione viene fatta con il metodo contributivo. Ciò significa che probabilmente rispetto alla pensione che potevamo avere al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi di età, avremo una riduzione che può arrivare anche al 30%. Quindi se a una persona gli veniva riconosciuta una pensione di 1300 euro, con l'opzione donna può addirittura avere anche meno di 1000 euro. Però è chiaro, siccome non è una scelta obbligata, chi la vuole fare chiaramente sa anche quelli che sono i rischi a cui va incontro. Più che rischi è certezze. Rischi, rischi, rischi a cui va incontro perché gli abbassano chiaramente il trattamento pensionistico. Oh, la quattordicesima, se ne è parlato tantissimo, sono fatte mille ipotesi. Adesso che succederà? Allora, la certezza sulla quattordicesima è che chi e chi aveva una pensione inferiore ai 750 euro può avere un incremento di circa il 30%. Quindi anziché prendere i 550 euro può arrivare a circa 650-660 euro. Spetta esclusivamente a quelle persone che avevano prima un trattamento pensionistico inferiore a 750 e avevano un'età minima di 64 anni. Ora, che succede? Che per chi già prendeva appunto la quattordicesima gli viene aumentata del 30%. Chi invece ha una pensione che arriva fino a 1000 euro la prenderà per la prima volta e in quel caso può arrivare l'integrazione che spetta esclusivamente nel mese di luglio a titolo di quattordicesima non può superare i 500-550 euro. E riguarda una platea di circa 2-2 milioni, 2 milioni e mezzo di pensionati in più. E' chiaro che spalmata a livello mensile parliamo di 30-40-50-60 euro l'orde al mese. Ma che comunque insomma possono servire chiaramente ad alleviare e far sì che magari... Tutto questo naturalmente c'è un aggravio sui costi della macchina pubblica, c'erano delle resistenze a livello europeo. Poi si è capito che lo Stato sta facendo degli anticipi, cioè un domani riavrà nelle casse i soldi. Quindi lo Stato non è che dà questi soldi così, li riavrà poi col tempo, quindi i conti a lunga gittata saranno gli stessi. Ritorneranno in equilibrio. Giuseppe Piazza, sono contento proprio di averla qua. Guardi, sono proprio contento perché stiamo parlando di lei in redazione da parecchio tempo. Lei ci ha scritto questa lettera, anzi invito tutti, chiunque ha un problema, una questione, magari anche simile o diversa, comunque che ci possa interessare di mandarci una lettera, le antiche lettere invece dell'email. Che cosa è successo? Anzitutto lei è venuto qui con due documenti. Storici. 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 ACP. Parliamo del 1959. Libretto di lavoro, ecco qua. Ci sono tutti i timbri. E poi quell'altro che cos'è? Contributi versati dove non mi vengono riconosciuti. Che non le vengono riconosciute. Questo è qua. E' questo il punto. Non gli vengono riconosciuti questi contributi. Mi chiedono sia i patronati che l'Impes, le buste paghe dal 1959 sino all'ultimo giorno che io ho lavorato alla Fiat. Alla Fiat? Alla Fiat. Parliamo di quattro anni di Fiat dove io le avevo le buste paghe. Purtroppo nel 2001 si è allagata la cantina dove abitavo io, ho dovuto buttare tutti i documenti e tutti quelli che c'erano. Tra quei documenti, scusi, perché lei ovviamente, per capire bene, quindi questi scettolini che purtroppo, sfortuna nella sfortuna, sono andati perduti in quell'allagamento. Sono quelli che oggi le chiedono per riconoscere i contributi. Non me le riconosco. Lei non può andare alla Fiat? Sono stato alla Fiat. Mirafiori, l'ufficio personale, dove l'addetta mi dice che Mirafiori, gli archivi, sono inaccessibili. Allagati pure quelli? Ah, sì. No, veramente? Sì. E a Stura, perché io sono stato assunto a Lingotto, dopo tre mesi di Lingotto mi hanno trasferito a Stura, dove mi dice l'impiegata che a Stura l'archivio non esiste. Esiste solo l'archivio a Mirafiori, però è inaccessibile. Quindi non mi possono fare le buste paghi. Io qua c'ho... Ma lei, scusi, ha chiesto perché è inaccessibile questo archivio? Mi ha detto così, inaccessibile. Non l'ha detto di più? No, non mi ha detto di più. Dice potrebbe risalire attraverso l'Inamme, 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 se potrebbe uscire qualcosa. Io ci ho detto, ma mi scusi, ma lei quanti anni ha? Avevo 40 anni. Ma se io quando lavoravo alla Fiat avevamo la mutua Malfe, mutua aziendale lavoratore Fiat, dove c'erano tutti gli ambulatori in via Gabriele a Torino. Se io avevo un problema di malattia dovevo andare negli ambulatori Fiat. E lì, quindi cosa c'entra l'Inamme? Ma lei quanto sta perdendo? 11 anni di contributi. 11 anni di contributi. Qua c'è quasi 11 anni di contributi che non mi vengono riconosciuti perché mi chiedono le buste paghe. Io apprendessi, a me le buste paghe... Cioè quei bolli lì non pagano niente? Come? Quei bolli lì, quelle cose che... Quelli dell'Inpes. Non contano niente senza le buste paghe? No, qui questi sono i contributi versati e i timbri dell'Inpes. Ma non bastano? Ci vogliono pure le buste paghe? Perché in pratica lui ha fatto la richiesta, la domanda di ricostituzione dell'assegno pensionistico. Allora l'abbiamo scritto all'Inpes, tutto quello che lei ci ha scritto nella lettera l'abbiamo scritto all'Inpes e vediamo se ci rispondono. Per il momento non ci hanno risposto, 22 novembre 2016 abbiamo mandato la richiesta. Quindi vediamo, facciamo un appello anche al signor Fiat, questi archivi inaccessibili, magari se è possibile accedere perché il signore sta perdendo 11 anni di contributi. signor Giuseppe Piazza, siamo al suo fianco, ce la faremo, ce la faremo, speriamo, speriamo. A tra pochissimo!